Buone notizie per l'Italia, da domani disponibili i primi 10 miliardi a sostegno del lavoro. Così al TG1 la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. L'intervista è del nostro corrispondente da Bruxelles, Gavino Moretti. Presidente von der Leyen, la prima emissione di titoli del programma Sure per l'occupazione è andata bene sui mercati, ma per l'Italia questo cosa vuol dire? Ho buone notizie per l'Italia, perché il programma Sure è pronto. In pratica, diciamo alle imprese, non licenziate i vostri lavoratori. Daremo dei sussidi in denaro attraverso i fondi europei per tutto il tempo della crisi. E l'Italia da domani avrà i primi 10 miliardi da investire nella cassa integrazione e nel sostegno al lavoro, su un totale di 27 miliardi. Col Premier Conte avete parlato delle priorità della Recovery Fund e c'è un rischio ritardo? Per l'Italia il Recovery Fund equivale ad almeno 77 miliardi a fondo perduto. Con il Premier Conte parliamo molto delle priorità ed è davvero molto positivo vedere che il piano italiano si stia sviluppando su ambiente e innovazione digitale. Il tempismo è fondamentale e spero che i negoziati accelerino. Per l'Italia e la Commissione è importante che il piano sia pronto quando le risorse potranno essere erogate. Giovedì ci sarà il Consiglio europeo dedicato all'emergenza Covid-19. Quali saranno le sue proposte? Siamo in una fase molto grave e preoccupante della pandemia. Serve disciplina da parte di tutti nel rispettare le misure di prevenzione. E poi serve coordinamento, coordinamento, coordinamento. Sulle aree a rischio, sui test, sui vaccini e sul movimento di merci e persone. Come europei dobbiamo combattere insieme. Ce la faremo, ma dobbiamo essere uniti. Per evitare il lockdown tutti devono fare la propria parte.